Guardate che abbiamo qui oggi, facciamo insieme a voi un tutorial creativissimo per fare dei regalini di Natale o un centrotavola per la cena di Natale, il pranzo di Natale che potrete mettere a casa e fare bella figura e ovviamente riutilizzando delle cose che già abbiamo in casa quindi oggi sfruttiamo l'occasione per vedere i nuovi slime, questi qua Mermaid Shell Potti di edizioni Alfa ma utilizzeremo oltre a quelli anche degli altri slime di edizioni precedenti che magari si sono rovinati un po' sono diventati vecchi eccetera eccetera e quindi li fisseremo in questi barattolini facendo delle creazioni veramente carine carine l'occorrente a parte degli slime brillantini, cosine, brillucicose, perline, quello che avete che vi avanza ciondolini, quello che volete voi, soprattutto barattolini non è detto che dobbiate comprarli perché potete utilizzare anche dei barattoli che sono avanzati in casa quindi potete usare quelli delle marmellate, quelli del sugo, quelli degli omogenizzati se avete dei fratellini o delle sorelline, insomma tante cose le utilizzeremo oggi, questo che è l'ex barattolino di glitter questo era un barattolino di glitter che è finito, l'abbiamo usato tutto quanto c'è rimasto questo vasetto di vetro molto carino e adesso lo andiamo a decorare altrimenti ci stanno questi che si trovano un po' dappertutto questo l'abbiamo comprato da Tiger, una pallina bellissimo, per le palle da vetro questi sono quelli che si comprano per fare le marmellate, per le conserve di casa e questo pure ok, cominciamo, bisogna iniziare mettendo dello slime in questo barattolino allora abbiamo deciso di usare un barattolino per uno, Lara quale vuoi? questo e io userò questo ma ci andiamo a scoprire queste nuove perle? Io le ho già viste in qualche review ho visto quella che ha fatto Corinna, se no tante questa è bravoissima e ha trovato anche la perla nera, quindi so già che c'è una perla rara ma ho visto anche un video furbissimo di Lilla, sai cosa ha fatto? le ha torciate le ha torciate, esatto come nelle confetti pop ha usato la torcia per vedere in trasparenza dove era la perla più rara cioè, genio, genio quindi andate anche voi nel canale di Lilla a vederlo perché è stato troppo carino allora, questo è sempre Lilla è una furbola in genere il putty di Edizioni Alpha è molto molto bello e questo costa 3,90 euro la confezione è carinissima perché ha conchiglietta, bene scartiamole tutte perché le voglio aprire ok, scartate, sbucciate adesso li apriamo e vediamo che c'è dentro io voglio aprire il bianco io aprirò l'azzurra perché mi piace tanto il bianco il bianco perlato è uno, diciamo, dei colori metallizzati preferiti è impossibile io mi riesco ad aprirla ma ci vuole una leva ci vuole la forza di urso ce l'ho fatto, ce l'ho proprio diviso in due ho trovato quella terra ma che fortuna, subito, al primo colpo la fortunella, ma come fai? primo secca, una in aperta e l'ha trovata vabbè io mi ritiro fammela vedere, falla vedere questa perlina ultra rara eccola qui questa è la perla nera ecco, a posto è arrivata Lara e l'ha trovata subito, subito è una perlina come ho fatto? vabbè, è matematica fortuna fortuna o matematica vabbè, è una perlina e se volete ci si può fare un braccialetto esatto potete anche infilarle tutte quante e farci un bracciale mentre la mia, guarda è azzurro come l'acqua e la mia perlina è bianca invece ecco, abbiamo fatto bianco e nero bianco e nero ti piace troppo? ok, vediamo gli altri colori? sì Lara Fortunella Lara Fortunella perlina nera io prendo quello pesca vai io è rosa ok, questo si apre facilmente lo slime è ovviamente anche lui abbinato è il color pesca anche lui e la perla è rosa eccola qui ho trovato una perlina bianca o rosa fucsia dovrebbe essere leggermente rosata viola viola metallizzato apro pure questo visto che ci sono fa vedere la tua com'è eh sì, è sul rosa eccolo qui, giallo non c'è la perla c'è, c'è, c'è sembra che non ci sia e invece taradam taradam tan tan non ho scusa qui trovata? già ok adesso andiamo con i nostri lavoretti questi li appoggiamo qua dentro e prendiamo le perline tiriamole fuori esattamente allora andiamo con i nostri progetti io vorrei cominciare il mio utilizzando uno slime blu sul fondo e poi cambiare colore voglio farlo a strati fare tante io voglio fare a tema unicorno ok mi piace tantissimo barattolino eccolo tra l'altro il mio è tutto glitteroso quindi rimarranno un po' di glitter in giro forse ci possiamo mettere pure le perline è ovvio allora allora io userò questo che è quello dei cupcake guardate quanto è blu è bluissimo praticamente super super blu invece tu quale userai per primo? questo? questo verde bello verde laguna via col primo strato io lo metto un po' vediamo che effetto fa tra l'altro se lo appiccico contro i bordi mi raccoglie è bene che è pure tutto zuccherato il tuo si c'è gli zuccherini è vero allora ok spingo bene dobbiamo appiattirlo ok allora il primo strato l'ho fatto io ancora no perché ho dovuto appiattire vuoi un po' del mio? ma tu l'hai messo tutto? si tutto ah vuoi un po' del mio? ok ti do un po' così fai uno stratino sopra il bruno anzi lo metto un altro lo metto sopra così fa più contrasto giusto poi arancione arancione ok mi dai un po' del tuo o lo metti tutto? te lo do certo che te lo do certo che te lo do un pochino di più dammene per favore se no non mi stacca bene il colore ok il bello è che è pure tutto zuccherato quindi però mi piaceva metterci un azzurro per fare la grattazione allora andiamo un po' userò questo e ci metto un po' del bianco questo qua trasparente? si perché così lo rende più glitteroso ok wow guarda che un po' guarda che carino guarda che bello ok a questo punto io voglio metterci dentro qualcosa e voglio mettere questo il fiorellino di babù ecco qua guarda che bello il mio che bello il tuo è carinissimo ok mi faccio un po' di spazio io metto i glitter di lilla in uno strato e metto il mio fiorellino questi glitter ci aveva regalati lilla al nostro incontro è vero quando siamo incontrate all'hobby show ok dopo l'azzurro e il blu io cambierai completamente colore e andrei con qualcosa tipo rosa adesso io uso questo che è un lilla che stava dentro alle alle lollipop io sarei indecisa se usare che colore vuoi fare? non lo so dove? c'è un rosa? sì quello della conchiglia ah sì questo l'abbiamo appena aperto sì sì anzi vorrei andare anch'io col rosa che dici? facciamo metà? dividilo in due dividilo in due stacca tieni ok eccolo qui io me lo vorrei conservare per metterlo in alto come? chiedite? com'è? guarda che stacco di colori è bellissimo è proprio bello dov'è il fiorellino di babù? perché lo voglio pure io eccolo il fiorellino di babù fatti un po' di spazio se ti conviene che sollevi un pochettino lo slime e poi ecco e fatti un po' di spazio e lo infili brava vai a posto l'hai messo poi riappoggi un po' di slime così si appiccica per bene contro il bordo che colore vuoi ancora? io ho finito mi manca solo un ultimo pezzetto sopra mi serve un po' di arancione io metterò un po' di giallo sopra un po' di arancione un po' di blu anzi prima di mettere il giallo voglio mettere qualche perlina eccoci qua ci metto le perline vedete ecco dentro questo slime abbiamo trovato le perline ma diciamo che ne abbiamo anche di nostre allora io me le metto un po' qui e qui metto il blu me lo presto il blu tutto quello che vuoi di presto e le mettiamo un po' in giro ecco guardate che bel effetto che fa io lo voglio fare super mega ultra giga colorato mi spalmo un po' di perline in giro che dite ti piace come sta avvenendo? già moltissimo ma guarda che carino poi mi sa che ce le metto pure le perline si fa un effetto bellissimo poi quando affondi i colori vanno tipo a mischiarsi ti piace? va a vedere bellissima io ci voglio mettere quel viola della lollipop vai della lecca lecca ci voglio mettere un po' io ti ho d'aprirla certo perché a volte non riesco ok il mio è finito guarda un po' ma mi è venuta un'altra idea voglio mettere questo bloccato sopra con la colla a caldo perché guarda quanto fa carino ma ci ho preso gusto vorrei preparare un altro mi sa che faccio purio 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 questo piccolino che dici? e tu quale vuoi fare? quello gigante? sì facciamo dai io che sono una mamma faccio quello piccolo e tu che sei la figlia prepari quello grande ecco ti piace il mio bellissimo guarda quanto si vedono bene i colori a te stupendo adesso prepariamo ancora questi due e vi facciamo vedere il risultato ok noi stiamo continuando a lavorare adesso proviamo una tecnica diversa abbiamo un altro barattolino ma invece di fare i strati orizzontali questa volta faremo delle palline e le metteremo a caso così vediamo come si mischiano e vediamo che effetto fanno già allora questa giallina poi mettiamo un'altra pallina di color pesca mi serve un po' di guarda questo rosso metal che era di un altro slime ancora mettiamo anche lui altra pallina poi mettiamo un po' di blu ovviamente dovremmo lasciare un pochino poi riposare tutto quanto in modo che si rilassano gli slime e si scioglie tutto quanto poi questo si è mischiato da solo vai mi piace ce lo metto dentro un po' di ecco qua il nostro risultato che ve ne pare questi sono i nostri lavorini con lo slime ecco qua questo è quello che ha fatto Lara ci ha messo in mezzo anche gli zuccherini e ci ha messo tanto glitter questo è il mio micro lavoretto guardate quanto è piccolina però mi piace molto molto la più bella è questa l'abbiamo messa su questo piedistallo che fa le lucette si vede che è illuminato Lara spendi un attimo la luce così vi faccio vedere quanto è bello guardate un po' e cambia colore e lo slime appunto si illumina quindi se avete qualcosa con le luci dietro l'effetto è bellissimo li accendi ok tornati alla luce questi sono gli altri due questo è quello con le palline di slime non è a strisce ma era a pezzetti l'effetto però è buff e carino lo stesso e questo è quello stratificato che ho fatto io come vedete si possono poi mettere dei coperchietti o si possono abbellire con nastri o quello che volete insomma ci siamo divertiti potrebbero essere delle idee molto carine da regalare a Natale chi volete voi soprattutto perché potete utilizzare magari degli slime vecchi che avete in casa io ve lo ricordo sempre che gli slime hanno una vita limitata nel senso che dopo un po' che ci giocate accumulano batteri quindi quando uno slime non ha più un buon odore vuol dire che ha una carica batterica e che quindi non è più sano giocarci quindi magari li chiudete in un barattolino rimangono comunque con voi arredano abbelliscono la vostra casa ma appunto non sono più puzzolosi ragazzi spero che vi sia piaciuto ringrazio Edizioni Alpha per questo nuovo slime perché è molto carino il prezzo non è bassissimo perché costano appunto quasi 4 euro però finalmente siamo tornati a una confezione piuttosto grande e poi ovviamente come ve lo dico sempre pure io io non vi invito mai a collezionarli tutti secondo me gli slime per il discorso che vi dicevo che dopo un po' si sporcano si seccano è meglio averne magari uno, due alla volta e insomma e cambiare ogni volta che escono quelli nuovi ragazzi grazie per aver visto questo video e noi vi salutiamo un bacio a tutti quanti dalla Fortunella che ha trovato la perla nera e da noi qui vi metto il fiorellino di Babu per iscrivervi sulla perla nera e qui intorno un po' di video da vedere dopo ciao ragazzi ciao